Vincenzo Inverso, leader di Per un nuovo inizio, attacca l'amministrazione dopo la presentazione nei giorni scorsi del piano generale della mobilità sostenibile presso il Ministero dell'Ambiente. Nel mirino di Inverso l'assenza di progetti presentati dal Comune nell'ambito di tale piano. Ma è davvero imbarazzante. I nostri appelli cadono sistematicamente nel vuoto. Da ultimo abbiamo ricordato l'amministrazione dell'apertura di questo nuovo bando che scade l'8 di giugno ma ancora ieri il Ministro dell'Ambiente ha sottolineato e a Roma noi abbiamo partecipato il piano generale della mobilità sostenibile mettendo a disposizione 500 milioni di euro. L'ex intervento ne prevede e attualmente ce ne sono 15 specificatamente per le piste ciclabili. Il grande rammarico è che questa amministrazione cieca e sorda non risponde, non ci dà nessuna indicazione pur volendo scartare la nostra proposta che ricordo che è quella della pista biking e running che abbiamo a questo punto definito con un progettino lungo il Tusciano che parte dal centro di Battipaglia e arriva fino al mare. L'amministrazione non risponde e in alternativa non ha la forza e il coraggio di proporre una soluzione diversa se questa nostra non dovesse andare bene. Naturalmente noi come ASSAG per un nuovo inizio rivendichiamo anche una risposta sull'ex tabacchificio che sta cadendo a pezzi. Un altro punto strategico importante per lo sviluppo, per la riqualificazione urbana, per migliorare la qualità della vita della nostra città. Lo facciamo non a titolo personale ma lo facciamo avendo raccolto oltre il 5% del consenso in questa città, ricordo oltre 1500 voti alle ultime amministrative per cui pretendiamo una risposta dall'amministrazione sull'ex sati e sulla pista ciclabile lungo il fiume Tusciano che cosa vogliono fare. Non lo devono a noi ma alla città di Battipaglia e ai cittadini ai quali promettiamo che se questa amministrazione non dovesse farlo, non dovesse assumere nessuna iniziativa, noi restiamo in campo e siamo impegnati affinché queste due opere, la riqualificazione dell'ex sati restituita alla città come incubatore di impresa e punto nevralgico di sviluppo per l'economia e l'occupazione di questo territorio e la pista biking e running dal centro di Battipaglia fino al mare non la vedremo realizzata.